I rumori che sentite sono quelli di un gruppo di persone che corrono il più velocemente possibile verso un obiettivo. Siamo a Nairobi, in Kenya. Siamo dentro un centro commerciale. Il filmato è girato dall'alto. Le persone scattano, urlano, deviano, si fermano per respirare e poi ripartono. Il punto di arrivo è uno stand all'interno del centro commerciale. Quando lo raggiungi ti trovi di fronte a un globo a forma di webcam di grandi dimensioni. Sembra una sfera di cristallo, ma il globo è grigio e metallizzato. A quel punto i responsabili dello stand dettano le istruzioni. Devi mettere il tuo occhio di fronte a un piccolo buco al centro del globo, così le immagini della tua iride vengono mappate e registrate. Negli ultimi due anni questa scena si è ripetuta identica in Indonesia, in Sudan, in Cile, in Ghana, in Norvegia. I responsabili degli stand con la grande sfera in tutti questi posti sono famosi per una cosa. In cambio della tua iride offrono di tutto. Denaro, circa 50 dollari in criptovaluta, ma anche airpod, gadget, token. tanto basta le persone accorse ovunque nel mondo per farsi scansionare l'iride. A cosa serva poi la mappa della loro iride, nessuno lo sa. Tranne Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. OpenAI è la società che ha creato ChatGPT, il chatbot che usa l'intelligenza artificiale per rispondere alle nostre domande che molti di noi utilizzano spesso. Sam Altman, oltre a ChatGPT, ha altri progetti e uno riguarda i nostri occhi. La raccolta delle immagini dell'iride in tutto il mondo dura da più di due anni. Fino oggi sarebbero stati registrati gli occhi di più di 26 milioni di persone per un valore totale di 15 miliardi di dollari. Questi numeri raccontano il nuovo progetto di Altman che si chiama WorldCoin ed è sostenuto da un'altra delle aziende di Altman, Tools for Humanity, Strumenti per l'Umanità, il solito nome senza troppe pretese. La società è registrata in un posto con poche regole e poche tasse, Alec Ayman. L'obiettivo del progetto WorldCoin è scritto in un documento dell'azienda. Creare una rete finanziaria globale e inclusiva di proprietà della maggioranza dell'umanità. Tradotto in termini meloaulici significa provare a identificare ogni persona sulla Terra e poi collegarla a una criptovaluta creata ad hoc. L'obiettivo finale però è ancora più gigantesco. Fornire un percorso verso un reddito di base universale per il giorno in cui l'economia globale sarà sconvolta dall'intelligenza artificiale. Insomma, se Altman si aspetta che l'intelligenza artificiale possa distruggere moltissimi posti di lavoro, così questo progetto di Altman serve a compensare l'altro progetto di Altman. WorldCoin dovrebbe risolvere i problemi di disoccupazione creati da OpenAI in questo modo. I lavoratori che saranno licenziati perché la mansione che svolgono potrà svolgerla a chat GPT si registreranno su WorldCoin e, se tutto va bene, un giorno si beccheranno un reddito universale. Cioè un reddito di cittadinanza simile a quello che abbiamo sperimentato qui in Italia, però globale. Come tutto questo dovrebbe funzionare ancora non si sa. Intanto però il progetto ha raccolto 115 milioni di dollari in finanziamenti da alcuni dei più grandi investitori della Silicon Valley. Quello che si sa un po' meglio è cosa non sta funzionando in WorldCoin. Per esempio sono finiti sotto osservazione i metodi di reclutamento. I rappresentanti dell'azienda in giro per i centri commerciali del mondo hanno utilizzato pratiche di marketing ingannevoli, hanno raccolto più dati personali di quanto non abbiano dichiarato e i loro moduli per il consenso informato erano troppo vaghi. Poi non si sa dove finiscono questi dati sugli occhi delle persone, a quali altri dati vengono associati, come vengano protetti e conservati. La Francia, la Germania e il Regno Unito hanno annunciato indagini sulle pratiche di raccolta dell'iride. In Italia WorldCoin non c'è ancora, ma il garante della privacy ha già deciso di indagare sui suoi metodi. Il Kenya nel frattempo ha sospeso la possibilità di scansionare gli occhi dei suoi cittadini. Secondo fonti locali, la polizia di Nairobi ha fatto eruzione nei magazzini di WorldCoin e ha sequestrato attrezzature e documenti. La risposta della squadra che lavora al progetto per Sam Altman è «State calmi, guardate che questi problemi sono piccoli e risolvibili». Come in ogni novità del mondo tech super ottimista, i dipendenti di WorldCoin e il suo leader sostengono che tutto quanto stanno facendo sia assolutamente necessario, e quindi ineluttabile. «Finirà come diciamo noi», spiegano. «Questo passaggio è inevitabile. È soltanto che voi siete troppo indietro, non ci capite e ci rallentate». Secondo Altman, nell'era dei bot sofisticati e dei fake creati con l'intelligenza artificiale, è ovvio che gli esseri umani avranno bisogno di una prova della loro identità, universale e inequivocabile. WorldCoin, alla fine, non è altro che una mastodontica operazione di raccolta dati poco regolata. Secondo Altman, però, è anche molto urgente. Per il nostro bene. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.